Ed ecco un altro personaggio storico del 69esimo corso allievi carabinieri di Roma dell'anno di Grazia 1983. Lui si chiama? Oriti Cirino. E arriva direttamente da? Calabria, Cosenza. Oggi cosa fai? Oggi pensionato. Evviva! A giugno due anni. Direttamente da allievo a pensionato. A pensionato. Senti, che cosa sognavi quando giovanissimo in quel corso hai incontrato questa banda di ragazzi particolari? Eravamo tutti un po' particolari, comunque ci siamo divertiti, tanti ricordi, adesso tante emozioni. Già una fase l'abbiamo vissuta agli 30 anni che l'abbiamo fatta a Roma. Questa diciamo è la quasi a 35, io è già in pensione, altri stanno per andare in pensione, quindi siamo alla chiusura di questa carriera. E lo facciamo a Rieti, centro d'Italia. Lo facciamo per questo, per dividere un po' la distanza dal nord al sud. E tante storie in questi 35 anni, storie belle, storie brutte. Se dovessi ricordare la pagina che vorresti strappare e invece quella che vorresti mettere in copertina nella tua vita. Ma diciamo quella della copertina, il periodo del corso, il periodo diciamo negli anni di servizio. Quella da strappare, qualche collega purtroppo che è venuto a mancare il giovane, qualche episodio magari di morti, mafia, violenza, drangata. Diciamo dei ricordi un po' brutti, però diciamo ci sono, per fortuna ci sono ricordi più belli. I ricordi belli sono tanti e quindi soprattutto durante il corso eravamo tutti ragazzini, almeno la maggior parte. Qualcuno già era maturo con metà, diciamo noi eravamo 18-19 anni, c'era anche qualcuno 22-27-28 anni e quindi era come un padre per noi. Tanti momenti straordinari, ma hai ricordato anche qualche momento duro. E a chi ci dice che la mafia non esiste, che gli diciamo? La mafia c'è e noi facciamo tutto il possibile. Io adesso sono in pensione, ma ci sono tanti colleghi, tanti che cercano, soprattutto in Galabbia. Voglio ricordare che in Galabbia c'è il squadrone riportato cacciatore di Galabbia, che è un reparto speciale che comunque in questi anni ha già assicurato oltre 30 superlatitanti che comunque erano capi dell'Andrangheta, diciamo delle Endrine calabrese, le più sanguinarie. Noi ci crediamo, ci speriamo che nel futuro comunque arriveremo a un punto, nonostante tutti i sacrifici di tanti colleghi come il generale della Chiesa, come tante altre, ancora se andiamo ancora più indietro, come i commissari o magistrati, diciamo... Noi ci crediamo e continuiamo a credere che almeno nel futuro riusciamo ad arrivare, almeno per i nostri figli, a dire l'Andrangheta, la mafia, la camorra... A poter dire la mafia non c'è, intanto onore a chi in prima linea si batte per difendere la nostra patria. Ci crediamo, ci abbiamo creduto noi che adesso siamo in pensione, ma ci credono soprattutto quelli che lavorano senza guardare l'orologio, senza badare a ore che non ti vengono retribuite, sacrifici anche delle famiglie, non dobbiamo dimenticare che le famiglie fanno più sacrifici, forse più di noi, figli, moglie, mamme, quindi... Bravo, bravo! E io direi di trovare in tutta questa storia così importante una fotografia da mettere in copertina a un libro che parli della tua storia, che fotografia ci metteresti? Ma diciamo quello che mi è rimasto un po', non solo domani, sicuramente sarà ancora più emozionante, ma quello è il ricordo del trentesimo corso che abbiamo fatto a Roma, che erano trent'anni che non ci vedevamo, mentre adesso sono passati cinque anni e con qualcuno dopo i trent'anni ci siamo mantenuti in contatto, quindi ci sentivamo adesso con questi chat, con questi mezzi diciamo Whatsapp, Facebook, ci sentivamo più in contatto, però il primo dei trent'anni, il trentennale è stato molto emozionante, poi l'abbiamo fatto alla scuola allievi dove avevamo fatto il corso, c'è stata una messa e quindi quella, io direi che quello è un ricordo bellissimo che ce lo porteremo un po' tutti per... e sicuramente questo trentacinquennale è destinato anch'esso a passare in Gopertina, perché qui Giuseppe Amici ha fatto un'organizzazione, adesso devi vedere che pranzo domani. Abbiamo anche il nostro comandante, il comandante, il generale Baccelli, che adesso è in pensione, domani arriverà anche il tenente Rubrano, credo, con altri due maresciali che allora erano caposquadra, diciamo che domani la cosa dovrebbe essere ancora più emozionante, andare a scavare in quei ricordi, che comunque nove mesi, però sono stati tanti per noi che eravamo allievi, quindi tutte cose nuove, diciamo tutti passaggi nuovi. E quindi emozioni per cuori forti dal trentacinquennale di quello storico, epico corso del 1983 a Roma per allievi carabinieri. Grazie, grazie di cuore, dalla Calabria, con passione. Tante saluto, un abbraccio a tutti.